Sempre qui al Venemi di Vinci, mi dicono in questo momento dalla regia c'è un collegamento telefonico, anzi no, radiofonico, comunque è un collegamento, mi sa, sì, le previsioni del tempo, oramai sono diventate quasi una costante del nostro programma, ascoltiamo il meteorologo. Un saluto da Andrea Falcinelli del Meteo.it, per oggi Chiavischi e Burroschi in tutta la zona nord-sud, Chiavischi e Burroschi, che sono? Non lo so e non mi interessa, forte perturbazione nel litorale agroargentone. Che litorale è l'agroargentone? Sicuro non è dove abito io, per tutta la settimana, ascoltatemi durante la settimana per le previsioni e se piove prendete l'ombrello. Ma mistero pietà! Un saluto da Andrea Falcinelli del Meteo.it Delle informazioni proprio straordinarie da un meteorologo che ha proprio la passione nel fare questo mestiere. Grazie, grazie a Andrea Falcinelli. Immagino che la settimana prossima ritornerà a darci le sue previsioni del tempo e noi continuiamo con il VENI 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 VINCI! Grazie a tutti!